Good morning Genova, buongiorno, tutto bene? Mi hanno voluto dire che la scuola è finita. Sì, quella scuola che in realtà era finita più di tre mesi fa, per i bambini era finita alla fine di febbraio. Poi si sono continuati a vedere con le maestre, con i professori, i ragazzi, soltanto online e non è successo a tutti perché tanti hanno avuto le difficoltà, sia perché non avevano magari la possibilità di accedere a tablet, a computer, a degli smartphone adeguati, perché se ne andava la connessione e poi comunque in ogni caso la scuola deve essere fatta a scuola e non a casa. È finita l'emergenza e speriamo che l'emergenza non ritorni più, però noi dobbiamo metterci, come dire, in condizione di farla tornare una cosa necessaria per tutti e un pezzo fondamentale della vita dei bambini e delle famiglie senza le stie di plexiglass, per cortesia, perché i bambini non stanno nelle stie, soprattutto se poi la gente invece può andare a ballare in discoteca. Quindi ci sono alcune cose che danno un po' fastidio anche a un particolare, ricordatevi che ci sono i piccolissimi, quelli tra 0 e 3 anni, per i quali non si sa niente, non si sa se riapriranno gli asili nido, come riapriranno e quindi le loro mamme come potranno tornare al lavoro tranquillamente? Potranno tornare al lavoro, ammesso che non l'abbiano perso nel frattempo? Queste sono cose fondamentali che dovremmo ricordarci sempre. Mi hanno voluto dire però anche una bella cosa e questa ve la racconto veramente con piacere, il grande movimento che c'è anche a Genova per far definire i luoghi del cuore, del FAI, del Fondo Ambiente Italiano, dei pezzi di città che spesso non sono abbastanza conosciuti e così è bellissima la mobilitazione che è nata ad esempio in Val Polcevera, intorno alla Villa Pallavicini di Riverolo e già sede dell'antico comune di Riverolo, adesso un po' abbandonata lì in mezzo al traffico, ma anche del Roseto di Murta, un'altra eccellenza veramente, e in Val Bisagno, l'oratorio di San Rocco e poi si parla della Gru Langerheinrich nel porto di Genova. Ecco, sono bellezze, così come sono bellezze la ferrovia, limone, tenda, ventimiglia e tante altre cose, il borgo di Monesteroli nelle cinque terre. Insomma, votate, scegliete il vostro luogo del cuore, ma votate, ma anche perché intorno a questo rinascono i territori. Good morning, Genova.